Prende vita l'alta via Dolomiti-Bellunesi, un percorso pensato in sette giornate che si snoda fra Forno di Zoldo, Pramper, Schiara, passa per i Monti del Sole, i Piani Eterni e lungo le Vette Feltrine conduce l'escursionista alla parte sud del Parco Nazionale. Le particolarità del tracciato risiedono negli ambienti toccati, caratterizzati da una scarsa antropizzazione che ha lasciato immutata la montagna e permesso alla natura di imperare. Un percorso che già nel 1994 era stato descritto che va a unire un po' tutte le nostre montagne del Parco Nazionale Dolomiti-Bellunesi. Grande attenzione è data agli strumenti di comunicazione più moderni. Facebook, Instagram e un sito internet sono le risorse con le quali i giovani coinvolti nell'iniziativa promuovono le Dolomiti più selvagge e meno patinate. Gente, nativa digitale, che conosce queste tecnologie e queste metodologie. Secondo me è un progetto che può essere interessante da copiare nel prossimo futuro anche da altre realtà. Il progetto è stato sovvenzionato anche da tre aziende operanti nel settore dell'alpinismo. Sigillo di approvazione anche dal grande fotografo di montagna Manrico Dell'Agnola. È stato un progetto che incarna perfettamente lo spirito e l'azienda. Ci piace la promozione di un territorio che è rimasto nascosto e che quindi è più vero. Abbiamo aderito al progetto dell'alta via delle Dolomiti-Bellunesi perché incarna un po' il nostro desiderio di lavorare con il territorio e crescere con il territorio tutta una serie di collaborazioni e iniziative. Uno si trova in un ambiente assolutamente isolato, assolutamente selvaggio e può godere del fatto di essere in un luogo dove magari cammini per due giorni e non trovi nessuno.